Sono bastati tre pareggi per decretare le sorti delle tre messinesi di Serie D. E' vero, non è stata una domenica dai grandi numeri questa trentunesima giornata, ma forse è stato un weekend quanto mai utile ad Orlandina, Due Torri e Città di Messina per iniziare a pregustarsi, o quasi, l'ultimo scorcio di questo campionato interregionale. Poche briciole, dicevamo, raccolte in questa ultima fatica domenicale, poche ma buone, soprattutto per i più fortunati come l'Orlandina di Galfano, 0-0 in casa della Bibonese e tra qualsiasi salvezza raggiunto. Pura formalità la prossima gara in casa per i paladini, che con i tre punti a tavolino contro l'estromesso Ragusa possono già godersi in piena tranquillità le ultime giornate. Strano come le cose cambino in poco tempo, da un'Orlandina che con il suo secondo posto dopo cinque giornate sognava i playoff ad una squadra che con 57 gol subiti in 30 gare diventa la peggior difesa del campionato. Un vero e proprio miracolo quello compiuto dal tecnico subentrato a Peppe Raffaele, addirittura con tre giornate d'anticipo. E se di miracolo si vuol parlare, anche in casa a due torri, i salti mortali quest'anno sono stati all'ordine del giorno. Poche vittorie, parecchie sconfitte e tanti pareggi, come l'ultimo a Lenzovasi contro l'Agragas di Pino Rigoli. Un 1-1 ha ciuffato così, per un pelo, con Ancione che dal dischetto ha rimesso tutto in equilibrio dopo il vantaggio agrigentino marcato Saraniti. Un punticino dunque che alimenta di pochissimo dalla bassa classifica, ma che per il momento concede ai pireinesi il lusso di disputare il play-out in casa. Un privilegio che invece non spetta al città. Infatti, come per Orlandino e due torri, un punto anche per i ragazzi di Mister Laganà, che in casa non sono andati oltre l'1-1 contro Rende. Una condanna quasi per i giallorossi, che per forza di cose dovranno nelle ultime tre gare ingaggiare un duello fratricida contro il due torri per centrare il miglior posto play-out.